Sono su Banishad 3 fish, 1 hunter, 1 woodcut, 2 forester Bene così Perché? Perché è meglio immagazzinare del cibo Per quanto riguarda il legno 23 Perché pianto vuol dire che diventa grande and then togliamo il blacksmith che consuma legna lavoratore stava raccogliendo della legna lì poi siamo in 16 16 quantità avevo 1 2 3 4 3 7 8 9 10 sì fino a 25 così non c'è problema non c'è problema Anche fuori. Allora Il discorso Dunque c'è anche il Ecco, Rumpstein E' che non c'ho ancora legna Non c'ho abbastanza legna Non vorrei che poi Log 47 sono Allora Prendiamo un attimo qua la situazione Dunque Pish Forest e la bomba Sailor Un po' di vestiti Due li teniamo a raccogliere della legna Perché Se diciamo di andare su bene Deve fare anche il gather rat Comunque la prossima stagione Però l'assalto Di Euricoltura 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 Qua un po' di ricambio c'è Allora Fermiamo un attimo quel discorso Cosa si può fare Cosa si può fare Cosa di importante Mi faccia Un po' che mi dia una spinta in più Ecco gli studenti Non mi ricordo più cosa comportava il discorso della scuola Cosa si può fare Cosa si può fare Cosa si può fare Ah ecco Sono più produttivi Interessante Però 50 di legno Cazzo Sono tanti Quanto di legno Sono tanti E qui hanno già raccoglto Qua non posso più Prendere tanta Iniziare ad andare lontano Il che Non Qui hanno finito Con gli alberi Li farò raccogliere intanto Questi E poi 56 57 Quasi Quasi È un po' un rischio Perché Tutto sommato Però anche è vero che dopo Poi la posso pizzare qua Proviamo Qui Con gli alberi Coro Grazie. Allora, va bene la scuola. Qua devono iniziare a produrre. Allora, vedi, saltiamo una stagione di coltivazioni, intanto ne abbiamo ancora. Allora, Taylor è arrivato al Mars. Iron Pool 12. Io non capisco di prendere l'alena. Allora, va bene la scuola. 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 per costruire anche un po' hanno ancora avuto a che fare con gli incendi però anche perché piove molto su questa mappa quanto aumenta la qualità della vita così me lo faccio fuori anche un po di pietra che ma parecchio forester 60 già anche il pozzo c'è dunque adesso funziona tutto da iniziare a capitalizzare con la scuola non ha avuto ancora studenti però adesso pian piano poi il commercio però forse è presto perché prima devo riuscire ad avere un bel sistema di di lavoro quindi mi mancano ancora le persone da tenere fisse nell'agricoltura allora food 1933 firewood 145 log 135 110 disto carbone non ce l'abbiamo medicina e ne abbiamo pleder così ne abbiamo ferro ne abbiamo poche tools vestiti ce ne sono cazzo allora early springs porca puttana è andato a morire uno allora togliamo un pescatore un cacciatore eh 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 grazie a tutti grazie a tutti ma ho fatto il piede no? qui ho fatto il piede no? Ho capito bene per ogni pezzo di legno quanti ne vengono fuori di legna d'albere. Allora direi di togliere l'impasto, il finestro, adesso cinque bambini tra un po' Adesso vedo che la legna più o meno sembra stabile, 130 non si è mossa tanto nonostante... E' stato da creare tutta la legna per l'inverno. Bene. Ci siamo. Comunque adesso si rimpingua fino a... O andrà fino a quasi 3.000. dietro a ferro così per adesso non c'è nessun problema. Le medicine non c'è nessun problema. Tanta pelle. Ora che ho primo studiato. non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema. Lasciamo lavorare. Qui ci va il forest. Prendolo tutto. Prendolo tutto. Allora. Adesso vediamo. Prendolo tutto qua. Questo qua. il fabbro potrebbe anche aspettare il lavoratore, magari c'è ancora qualcosa da fare, che risorsa da raccattare quindi andiamo bene adesso la situazione è sotto controllo, dunque per espandere qualcosa pensare già al futuro e anche per il momento c'è un po' tutto quello che mi serve non bisogna creare che sai che spazio in più aspettare che si riempiono tutte le case ecco, queste sono quasi forti, sono una persona sola more warmed, quindi saldano di più quelle di pietra evidentemente poi c'è anche meno consumo ecco, va bene, qui adesso viaggia a regimi il momento all'anno sono ottimi per lì spring i tiboni vengono ancora a 3200 però questa stagione la posso saltare per me non si svuota anche qua perchè sennò il pane che è rimballato per un po' non ci sta più niente i magazzini ci siamo, i pesci ci siamo invene e a E' un gatorzat, proprio la fai colci a fare, parlerà di Cicosi, non è una fonte in più di civile. Sto pensando un po... ... 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 l'agricoltura cosi che da una mano a fare il raccolto ma la tua stronti non ci siamo ma non ci siamo va tutto puttano vabbè allora un fabbro assolutamente poi il resto è tutto a posto il tarto non ha bisogno non so se fare una casa in più e poi dopo una certa tipo questo qua adesso tra un po' muore poi con la casa lì si riempie con una copia qua ci sono questi qua che devono uscire di qua cazzo c'è nessuno mettiamo direttamente in parma tanto buon anche il fabbro anche il fabbro bene 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 buon ragazzi io vi saluto qua aspettiamo un po' il ritmo pausa direi che per adesso sta andando tutto bene devo aspettare da avere la gente fisso in agricoltura fisso a fare uno che può saltare da fabbro a sarto non c'è problema poi a quel punto lì a quel punto lì commercio potrei iniziare a pensare al commercio anche se in realtà non so però tantissima roba posso vendere un po' di pelli e basta eh qualche medicina magari vabbè dai salvo e saluto ciao a tutti